Buongiorno a tutti, spero che state tutti bene e che i vostri cavalli siano in buona salute e ben accuditi. Forse siamo quasi alla fine di questa lunga pausa che ha impedito a molti di noi di occuparci giornalmente del nostro cavallo e soprattutto i cavalli giovani se da un lato hanno forse beneficiato soprattutto quelli che potevano stare nel paddock da un punto di vista della loro crescita e dall'altro c'è stata una carenza di lavoro che andrà tenuta in considerazione con una ripresa graduale e con le richieste delle prime gare. Come giudice penso che le richieste saranno semplici e forse avremo richieste più semplici per tutto l'arco della stagione e io personalmente vorrei vedere una libera espressione dei cavalli nel lavoro in piano una messa in mano non esagerata e come preparatrice consiglierei di lavorare molto sulla distensione e nel salto vorrei vedere anche nel salto una libera espressione e nell'esercizio che il cavallo possa salti volentieri, non sforzi e delle richieste abbastanza semplici sia da un punto di vista mentale che fisico. Vi auguro buon lavoro e spero di vedervi presto sui campi di gara e ciao a tutti.